Archiviata la grande gioia per la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, proseguono gli obiettivi come ben noto. Cioè domani la Champions League arriva a Conegliano nel derby d'Italia che deciderà momentaneamente la capolista del Girone A. Sì, noi in questa stagione dobbiamo essere molto bravi ad aprire e chiudere dei cassetti. Abbiamo tre manifestazioni e fortunatamente quella della Coppa Italia rimarrà in questo momento in archivio perché riguarderà il periodo di marzo. Però dobbiamo essere felici di quanto fatto ma immediatamente chiudere appunto il primo cassetto che è quello della Coppa Italia e aprire velocemente quello della Champions. Il nostro Girone è iniziato alla grande con una vittoria in terra polacca contro una squadra estremamente forte. Però non servirebbe a nulla nel caso in cui la partita di domani non ci fosse continuità. Sappiamo di affrontare un avversario molto forte però dobbiamo cercare di essere un pochino più continui e essere soprattutto aggressivi. di specie dopo un impegno ravvicinato così intenso come quello della Coppa Italia. C'è fame, lo hanno detto anche le ragazze, volevano prima vendicare la sconfitta per 3-2 in campionato con Casal Maggiore. Ci sono riuscite e adesso c'è quell'altra con Eliano, il secondo obiettivo di questi pochi giorni. L'importante è che ci sia fame. Questa squadra deve avere fame negli allenamenti, nelle sedute video, nelle sedute di pesi. Deve avere fame su tutto perché la continuità e l'aggressività di una squadra si basano proprio su come si lavora nella quotidianità. C'è fame, lo hanno dimostrato comunque dopo una partita di Coppa Italia dove abbiamo subito per 3-7, inutile nasconderlo, ma la squadra è rimasta attaccata alla partita nel set più importante e più decisivo. Detto questo, domani è una partita completamente diversa. Affrontiamo una squadra che gioca una pallavolo sicuramente tanto dinamica, una pallavolo veloce, una pallavolo molto efficace, ma al tempo stesso noi stiamo cercando di dare continuità al nostro gioco. Siamo in ripresa e di sicuro domani sarà una partita nuova, una partita che parte dallo 0-0, come dico sempre, però lo stiamo dimostrando su più fronti. Noi siamo una squadra che in questo momento non riesce ad avere una linea di gioco continua, però ha dei picchi di gioco estremi e questo dobbiamo riuscire a portarlo set dopo set in campo. Quindi dobbiamo essere aggressivi in battuta perché comunque in Champions il pallone incide molto sulla linea di ricezione, sia agli avversari che a noi, di conseguenza se riusciamo a far correre di più Scorupa non è male. Detto questo poi ci vuole ordine, detto questo ci vuole aggressività in contrattacco e via dicendo. Quindi la squadra sta lavorando per essere continua, la squadra sta lavorando per portarsi avanti su tutti i fronti in cui siamo ancora e di conseguenza ci sarà un bello spettacolo domani. Cosa cambia? Se cambia qualcosa il fatto di quella che è la formula di questa Champions League conta di fatto principalmente solo la vittoria, non i punti, la vittoria, la sconfitta, il tie-break o quello che è in campionato? Sì, è così da un paio d'anni. Cambia nel senso che bisogna giocare per vincere, ma tendenzialmente non vedo molte squadre che giocano per perdere. Quindi sappiamo che non conta come si vince, ma conta vincere. Detto questo, per noi la cosa importante è quella di affrontare un set alla volta, perché se ci facciamo pensieri, programmi durante la partita non ha senso. Abbiamo dimostrato con Conegliano che possiamo giocarcela tranquillamente, ma al tempo stesso se abbassiamo il livello di gioco ci sovrastano. Di conseguenza questo deve essere il nostro spirito. Abbiamo fatto una vittoria molto importante fuori casa. Dobbiamo cercare di rendere casa nostra un palazzetto difficile per gli altri e poi partita dopo partita valuteremo quello che è il nostro percorso.